Se hai del grasso da togliere per quest'estate allora ti consiglio di provare questo allenamento A stomaco vuoto al mattino parti Con 2 sprint da 200 metri, 2 sprint da 400 metri, 6 sprint da 200 metri e 10 sprint da 100 metri E' uno degli allenamenti che tutti i giorni condivido sulle mie storie